Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei Milanisti al web. Oggi siamo qui con l'analisi del giorno dopo di Milan-Juventus con il risultato finale di 4-2 per la mia squadra, per i rossoneri. Volevo fare il video post partita diciamo a caldo ieri sera, però primo ero tipo in mutande, per le esultanze un po' molto frenetiche e secondo mentalmente non ero molto lucido, nel senso che ero un po' preso dall'euforia della partita e infatti mi sono ritrovato fuori, infatti qua è una location diversa, vedete, cambio, sono itinerante, fuori praticamente in mutande dunque non mi sembrava proprio il momento adatto per fare un video cercando di essere serio e più in parziale possibile anche se con il mio Milan mi viene difficile. Posso dire solo una cosa, da tifoso ieri ho goduto tantissimo ma credo sia normale perché è veramente una grande partita da parte dei nostri giocatori, dei nostri ragazzi che hanno anche sul 2-0 erano veramente messi bene in campo sembrava che fosse sul risultato di 0-0 o se no o anche del vantaggio del Milan perché alla fine se pensiamo bene nel primo tempo la partita è stata molto tattica senza molti tiri, le due squadre un po' si studiavano dunque non c'erano molti spazi. Nel secondo tempo rinizia e dopo 7 minuti se non sbaglio, aspettate che controllo sì, no, 2 minuti scusate, 7 minuti e il gol di Ronaldo, 2 minuti ovviamente con noi abbiamo il potere di risuscitare i morti mi ricordo un Kevin Lasagna che non se ne va da 4 mesi, il primo gol l'ha fatto contro di noi a gennaio poi altri che non sto qui a dire, Floccari, questa volta Rabiot, Brignoli, vabbè lasciamo stare Rabiot che salta, fa uno strappo da centrocampo all'aria, tunnela Hernandez, progressione clamorosa là nessuno ferma, nessuno fa il fallo tattico diciamo per fermarlo e fa il gol dell'anno mettendola sotto l'incrocio dei pali poi secondo gol Cristiano Ronaldo marcato da un difensore, credo Chier se non sbaglio Romagnoli va in anticipo, Chier dovrebbe seguire le spalle di Romagnoli secondo la tecnica, la difesa dovrebbe essere così segue l'uomo e l'altro va in anticipo, invece no, Chier si sveglia che comunque non ha fatto neanche una partita malvagia si è immolato più volte, anzi ha preso molte pallonate e però sbaglia i tempi proprio i due si scontrano, Ronaldo si trova una palla prendente sui piedi, adesso lo contro Donnarumma lo batte subito dopo però il Milan gioca bene, attacca, mette Leao, segna Ibra, fa il rigore del 2-1 poi rigore che sul momento non mi ero neanche accorto, poi ovviamente andando a rivedere c'era come alzando il gomito quasi va a deviare nettamente la traiettoria della palla e da lì in poi la Juve black out veramente, non ci ha capito più niente quattro minuti dopo sempre il Milan azione combinata in area di rigore scambi veloce, arriva la palla a Chissi, Chissi che veramente ieri ha giocato pure bene cosa gli vuoi dire? Chissi sembrava quello dell'Atalanta comunque a proposito di Atalanta andatevi a vedere la live che avevo fatto due giorni fa veramente molto molto interessante anche perché parliamo di molte cose di Juve, di Milan, di Atalanta andate più o meno a metà della live e troverete 10-15 minuti di Atalanta dove spieghiamo le nostre teorie su questa incredibile stagione dei bergamaschi continuiamo segna che sì e lì black out Juve 2-2 Leao segna su assist di Remic, molto intelligente Pioli a vedere che la Juve comunque si stava allungando la difesa non era molto stabile, De Ligt è stato considerato un flop per molti però si è visto che con Rugani la difesa della Juve balla un po' più che con De Ligt la Juve si allunga, si allungano i terzini salgono, ci sono spazi e per non dare punti di riferimento secondo me ha fatto molto bene Pioli a inserire un Buonaventura che poteva fare da collante tra attacco di centro campo con molta quantità e qualità anche e mettendo anche un Leao e un Rebic non dà i punti di riferimento alla Juve e avendo le squadre molto lunghe potevi beccare con Cialanoglu che è entrato al posto di un Paquita non proprio al massimo oggi se ne deve trovare uno un po' sottotono tra la squadra direi Paquita grazie alla tecnica diciamo di Buonaventura e Cialanoglu si riescono a trovare in profondità Rebic e Leao, arriva così il terzo gol e poi il quarto gol che arriva su uno svarione difensivo di Alexandro che fa un passaggio orrendo, orrendo su orizzontale, ha intercettuato gol poi la Juve ci prova ma alla fine non ha neanche grandi occasioni verso il finale a parte mi sembra un gol annullato a Ronaldo per fuorigioco di resto un tiro forse di Bentancur che è uscito il resto non mi ricordo grandi pericoli per il Milan ancora Kier si immola a prendere pallonate su pallonate entra Calabria al posto di un conto e anche lui un po' non dico spento però diciamo sia un po' meno di notare di altri e anche un Radekrunic per dare più sostanza a centrocampo al posto di un Rebic sanchissimo che ha allungato e abbassato la linea difensiva bianco-nero niente cosa devo dire, vediamo con il Napoli come ci comporteremo spero bene perché adesso tecnicamente dovremmo essere sopra il Napoli così recita la classifica di Serie A, vediamo oggi il Napoli gioca alle 19.30 con il Genoa e speriamo bene dai comunque niente vi saluto iscrivetevi al canale lasciate like, condividete il video seguiteci su Instagram bella ragazzi grazie a tutti